Beni per un valore di 10 milioni di euro sequestrati e 18 persone arrestate, tre delle quali risultano irreperibili. E il bilancio del secondo capitolo dell'operazione Puerto Liberado a Gioia Tauro, che già lo scorso 24 luglio aveva portato a 13 fermi, 61 denunciati e al sequestro di 4 tonnellate di cocaina che avrebbero fruttato 800 milioni di euro. Ad eseguire le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 18 presunti appartenenti a un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di cocaina i finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e dello Scico di Roma. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. I tre risultati irreperibili sono stati dichiarati latitanti. La droga giungeva dal Sud America e in Italia attraverso il porto di Gioia Tauro grazie alla complicità di alcuni dipendenti portuali, alcuni dei quali sono stati arrestati. Secondo quanto si è appreso, tra i fermati figurerebbero le 13 persone sottoposte a fermo il 24 luglio scorso, più altre 5 che non erano state coinvolte nella prima operazione. Le indagini patrimoniali hanno portato a individuare 10 imprese, terreni, ville e altri beni riconducibili agli arrestati e ai loro familiari, risultati sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e per questo sottoposti a sequestro. Sono stati così confiscati 25 fabbricati, tra cui tre ville con rifiniture di pregio, 33 terreni, 14 auto, 10 imprese operanti nel settore dei trasporti, materiali edili, prodotti medicali, sale giochi, beni agricoli e di allevamento, rapporti bancari, postali e assicurativi. Uno dei presunti capi dell'associazione criminale sarebbe Giuseppe Bradimarte, che viaggiava a bordo di un'auto blindata, anche questa confiscata, per proteggersi da eventuali attentati dopo essere stato ferito gravemente in un agguato nel dicembre 2011. Nella villa di Bradimarte i finanzieri hanno trovato un cunicolo occulto predisposto verosimilmente alla fuga nel corso di eventuali operazioni da parte delle forze dell'ordine. Di pregio anche la villa di un altro degli indagati, Antonio Femia, arredata con interni di lusso e una piscina con stato in pietra.